Ben ritrovati su Bioshock, oggi cercheremo di finire questa zona e di ritornare nell'Arcadia per finire tutto il pezzo Perché la scorsa volta ragazzi ci siamo fermati se no vediamo un video troppo lungo Ma anche fare solo il covo dei contrabbandi invece era troppo corto Per cui abbiamo deciso di fare un po' un po' un misto diciamo così Non seguiamo poco i capitoli precisi Ok, entriamo in questo Si ma parla sta qua mi rompe già i coglioni Qua ci sarà la bimbetta Eh si Chi ce l'ha? Oddio ma che cavolo Ma sei una vacca Aggiriamoci Va bene Siamo qua a cercare i pezzi Per quella specie di pozione che dovevamo fare Esatto Che cosa è successo? Non lo so cercando di cambiare arma Cioè le munizioni ma non me lo fa non so Ah perché non ce l'ho non me le fa cambiare perché non le ho Mi sono curato tanto C'è un ghezzo Cassa forza Oh 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 No Io Ho fatto male No Cioè ho perso una maria di vita che ho appena acquistato Vabbè Ci siamo rigurati eh ragazzi Eccolo il big daddy Ha già preso la bimba quindi possiamo ucciderlo no? Uh Già quasi morto dai Che cazzo Aspettate La bimba Eccola qua Ok Salviamola È stato un casino C'è stato un combattimento strano Un macello Però va bene Ha preso la bimba Questo è già positivo Ce n'era un altro C'era solo questa in questa zona Ah ok Quindi siamo già contentissimi Sarà breve come zona Ma Immagino di sì Cosa è Sparacchio oggi Oddio Sparato Ma non ho più munizioni Dove andare a un Una specie di macchinetta che mi dà le munizioni Come al solito Andiamo a scioppare dai Devo spendere i soldi Poi siamo quasi pieni di soldi Eh infatti li voglio spendere Qua perfetto Ecco Che ci prendiamo La va girata per risparmiare comunque Ah ok Ah non è qua Ah sì no è qua Ok Kit medico Proiettili Tutti l'ho comprato Oddio Tutto Comperato Vabbè Stiamo tranquilli Per un po' Sennò veramente Ok Da quasi 500 A 80 dollari Benissimo Ma 80 sono tanti Cioè in senso Vano bene dai Tanti sono sempre pieni Sennò Sì sì Cos'è sto rumore Oh attenzione Che cosa sono Ma che fanno Tirano le palle Tirano le palle di fuoco Sti qua Ma sono una raspa Spariamoli a tutti Ah no Ma un pistolero western Sto qua come sparare C'è una pistola Il pistolero Sì è un pistolero western Pistolero Oh sacco di merda Morto Bene bene Niente Sul tavolo c'era un'arma eh Qualc'odice Aspetta Cerco tutto Sto esplorando tutto Che arma è? Per il mita Munizioni per il mita Ah ok Sono munizioni Vodka Gesù mi ama Gesù mi ama Oh E' un pezzo di merda Altro che morto Oh Cos'è? Nuovo potenziamento Nuovo potenziamento Non ho neanche letto Era proprio Ecco Cosa si inventa? Vediamo eh Vabbè non inventiamo niente dai Dobbiamo inventare quella maledetta pozione Eh sì Vanno raccolti Quanti pezzi mancheranno? Qua sono andati indietro Qui c'è la cassaforte qua Capito? La fatica più grande Sì Cos'è che sono pieno? Niente Cioè abbiamo perso Tanto aprirsi Uuuuh Oddio Non so il giro Sì Hai chiuso Ho disattivato l'allarme Ok Ok Di qua Speriamo la nostra Frecciona Che cazzo succede? Che cazzo Cos'è che ci spara? Oddio Tipo insetti Aspetta Qua si può comprare nuove cose Con l'ottanta Eh tu guardi Tu hai i prezzi di sputoli Però non è male Eh sì Quasi quasi Ci faccio un pensierino Sì È esperto di vendite Eh anche questo qua ti cura di più Col kit medico Oddio Anche quello lì che ti cura di più va bene Ah però va inserito Ah Oddio Se lo sapevi Non lo sapevi Non lo sapevi Niente Allora ha fatto una cazzata Che posto Oddio sta per arrivare la nebbia Campione Oh Abbiamo trovato due campioni di insieme Curati Cazzo di faccia da culo che aveva sto qua Pesso di merda Cos'è sto suono Quattro Ce le trovo le altre enzimi Ok Cinque Oddio Sì ma quanti Io spara C'è C'è Diecimila Personaggi Da uccidere Ma dove morirono Stronza Stronza Fatto Oh uno l'hai completato Tutti Ok Oddio sto qua Ma davvero C'è Oh i figli Ma cosa che ci spara Ah le api Siamo morti Le api Sì ho spiegato una leva Perché se no mi pizzavano le api Maledette Bastarde Vabbè Siamo salvi Siamo salvi Ok Possiamo andare a creare la pozione Giusto Non so se manca solo quello Mi sa che manca anche qualcos'altro Noe Ma non fa Ora mi spiegate come cazzo Vabbè Vaffanculo Dai non si può Quando è così non si può Vabbè Siamo spawnati davanti Ho capito ma non va bene no Vabbè dai Vabbè ho capito però cazzo Abbiamo un po' l'idea Perché devi morire così a gratis E poi spawnare davanti al nemico Sì anche Corriamo Corriamo Acqua distillata Ne mancano sei E poi abbiamo finito Non è qua Che casino Sì C'è un big daddy qua Boh C'è un acqua distillata Sì c'è un big daddy Ok Che spara Oddio Ora per sbaglio Spariamo È quello che sto cercando di evitare Il big daddy Così il big daddy Si incazza mostro Perché se non c'è la bimba Non ti attacca A meno che non lo attacchi Ecco C'era anche là Un'altra acqua distillata Ne abbiamo tre al momento Bene bene Ci mancava sta visuale Rompipalle Quattro Ne mancano tre dai Ne mancano tre Dunque questa zona qua È abbastanza combattiva Perché Sì sì Sono due i combattimenti Mannaggia il filo di merda No Ho capito Oddio Cioè ragazzi Abbiamo comprato Tanti kit medici Poco fa Avete visto Chi ne ha fatto La nostra vita La nostra povera vita Allora Compriamo qualche kit medico Per sicurezza E qualche colpo della pistola Oh Siamo poverissime Abbiamo più dieci Muore Ho capito Ma se no si muore Perché Il gioco è fatto a culo No Che sei costretto a fare Delle cose obbligatorie Anche se non le sarebbe Ok Agiriamo No È difficilissimo Anche se scritto Che non è difficile In realtà Ecco lì in alto Ok Parto Vi apri o fai finta Ecco Ma quante cose Che palle Tutto sta a girare Tutto sta a girare Sì è vero Sto fa lungo C'è un blocco di bloccato da Cioè Cosa è che ci sta sparando ancora Dopo aver aggirato Dieci cose Un'altra Ragazzi Io non ho parole Ma quante ce ne sono Ragazzi Non lo so Io vado avanti Non ho voglia di combattere Contro tutti questi Cioè Veramente Dieci torrette Ma che cazzo Ancora Oddio Ci sono appena stato qua Qua c'è la bottiglia Ok Ok Ora quindi che manca Crea il vettore laser Amore sto morendo Oh no Oh Possiamo crearlo Possiamo potenziare un'arma intanto Ok Cosa potenziamo? Vabbè Fuscita pompa Dai Dai colpi più veloce Che cazzo Cos'era? Sono morto Big daddy Sto cosa faccio? Ma il big daddy è incazzato con te? Come mai? No me lo faccio amico Ah Come sono morto? Ora mi sono peso anche il big daddy No Vaffanculo Guarda Vaffanculo Tanto ci siamo ripartiti Che si può andare avanti Sì Però possiamo creare Il vettore laser In teoria Sì In teoria Sì In pratica non lo so Perché c'è da divarci Che poi ragazzi Oggi abbiamo speso tantissimo Di cura Che non è servito a un cazzo Pezzo di merda Guarda Ma per soddisfazione Non è frega niente Sprego anche tutti i colpi del gioco Non me ne fotte un cazzo Morite tutti Morite tutti Guarda dove c'è da andare Eh Sto da tornare indietro Come ci torniamo? Indietro che non c'ho più la freccia Ovviamente Perché la freccia non c'è? Ah no Stai dove la posso costruire Tolti dei coglioni Big day Qua Ok Vettore laser Oh l'abbiamo creata Ok Oh c'è la freccia Di nuovo Che bello Followiamola Torretta Via via Cerchiamo di evitarle tutte Sì c'è qua di andare veloci ragazzi Voglio finire il capitolo Oddio È semplicemente possibile Che questa zona qua Mi ha rotto veramente i coglioni Ma tanto Perché una cosa È un nemico Due va bene Anche dieci Ma non è che me li puoi dare In continuazione Quando devo fare Altenzione Gli oggetti Poi a volte scompare Un po' strano Sto più Poi vabbè Meglio C'è un po' di azione in più Sì sì Ok Oh Finalmente si torna l'Arcadia Meno male Visto che è durato Abbastanza poco L'episodio Ragazzi Finiamo Consegniamo anche Lazarus Tanto penso che sia finito il capitolo Appena consigliamo il Lazarus Che l'Arcadia Sono già stati nello scorso episodio Se ricordate Sì sì Io penso che adesso Si metterà nel Cioè questa specie di pozione Non so bene dove Comunque va inserito A qualche parte E in teoria dovrebbe Mandarci avanti Non lo so Vediamo Vedete che va tutto infettato Non opporre resistenza L'allarme Oddio dobbiamo farlo Entro un minuto Ma cosa Cosa sa dire E' l'allarme Che dura un minuto Ah ok Non l'ho ancora capito Ragazzi Dopo Cos'è questo Già fatto No me ne vado Non combatto nemmeno Vado avanti Proprio di corsa Sembrano parte Perché con l'armi dietro Quindi sono tutte le sentinelle Che mi seguono Ah sì Aspetto che finisce Poi Mancano 30 secondi Comunque Forte stile giapponesi Alcune Orientali proprio Un po' orientali Sì sì Bella sta cosa Fuck you Fuck you Qua avevano già ucciso tutti Se non sbaglio Perché c'è un Big Daddy Qua dentro Ma Non so Oggi Big Daddy Ovunque Sì sì davvero Fortuna che voi Avevano già presi Tutte e tre le bimbe Se non sbaglio Due non mi ricordo Quanti erano Due più una Sì 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 Però comunque Mi vuol che era finito Nell'altro episodio Il Big Daddy Da prendere Dico in questa zona Ok Ecco qua la signorina Ma che fa Ma che cazzo Oh Mi ha fatto vedere Le chiappe Tra virgolette Oh Qua si sta tutto Cosando Qua devi andare Ok qua Ok va messo lì Usa il mestiere All'altro Questa specie di cura Sì Ok si scena La porta ai laboratori Via 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 Sigilla la parte Di laboratori Ma l'hai già Spruzzata la cura Sì sì Ok Non me ne raccomando Qua arrivano i nemici C'era chiudere la porta Questa? No La freccia C'è di andare di qua Quindi Cosa devo fare Non ho capito Come? Mi ha dato un cataro Ma non ho capito Dove devo inserirlo Per usarlo E secondo me L'ha Ah ok Sì c'è l'altro Ah devi fare Oddio Oh qua sono entrati E anche qua La stanno aprendo Mannaggia Ok vi piglio il big daddy Sì Big daddy È il nostro Oh qua L'hanno aperta Praticamente Eccolo che si incazza Sì Sto all'armi Ma ho rotto Il coglione L'hanno È disattiva Tanto ritorna Cioè per due di numero La tragedia Si girano la porta Per due Che ne abbiamo beccati 10.000 prima Ma davvero Cioè stiamo scherzando Spero di no Spero di sì E ora? Big daddy ci blocca Spero che non sia così Tolti dai coglioni Cioè occupi 20 posti Big daddy Lo sto morendo io No Ma il big daddy Si gratta il fagiano Non capisco Ecco Ok Obiettivo aggiornato 1 su 3 Dobbiamo uccidere Sto qua C'è da scuotare ancora Eccoli 2 su 3 No Eh? No no C'è un nuovo obiettivo Ho visto Che palline Oh Kit medic Quello che mi piaceva Ah le mine prossime Tavano finite Non ho comprato tutte le munizioni Prima perché Si si Non è che me ne stia tante tante No vabbè In realtà un pochino si dai L'ho ripreso Perché è finito Ah Sono un pezzo di merda Ma ti ha colpito a te Ma mi ha picchiato a me Mi ha tolto un botto Ma sarà un coglione Ma sarà un coglione Sto big daddy Mamma mia Ce l'abbiamo fatto a nostra amica Ci colpisce Io spero Stai morti No vabbè ragazzi Assurdo Big Merti Ah ma si può Cosa? Ma poterò Ho scoperto tanti che si poteva comprare Cosa potete comprare? Eh cura lì Potevamo imparare i kit medic A stupor Eh ma Ti levi dai coglioni Big daddy di merda Ok Due su tre dai Circolazione del vettore Due su tre Perfetto Provare che quando muori Comunque riparti Che hai già fatto Quindi dobbiamo solo aspettare Intanto uccidere I nemici No basta uccidere i nemici Non stai aspettando Se aspetti anche dieci ore E' uguale Quando ucciso tutti Te lo conta Ah ok Meno male Perché se dovesse aspettare un tempo Sembrerebbe Sniper Z Sì Che devi aspettare Anche se E' ucciso tutti Cimina nemici Sì vabbè Big daddy Non serve ne merito cazzo No ma fa Però Fa finta Fa finta Appunto Fa finta Poi magari ora Lo colpiamo per sbaglio Così si incazza Gli girano le palle E ci uccide Non si levate coglioni Big daddy Che lo giuro No no E' sempre lì Continua Vuoi di bloccare Ok Ok C'è da tornare là adesso C'è da tornare là E riutilizzare il vettore Lazarus Vai 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 Eccoci No Ok Ok Nebulizzatore Ora c'è azzurro Vedi non è più verde Oh Stiamo disintossicando Oh guardate quante piante fiori belle Sì sono ricresciute le piante fiere Guardate guardate Due secondi e mezzo Sto diventando una giungla Sto busto Sto giungla mi distrugge Andiamo andiamo Penso di aver finito l'arcadia ormai eh Eh immagino di si Ok Poi posso raccogliere qua Ma la zotto di tutto Non l'abbiamo mai usata alla fine No Ce l'ho e non l'abbiamo usata Siamo boli bloccati da una panchina Ora non li possiamo usare Ok Rapture metro Oh mi sa che abbiamo finito davvero Vai alla stazione Ecco Quale stazione? Eh immagino port frolic No ci hanno già stati Ah Vabbè torni là Magari è lì Lo vediamo subito Mi chiede di esserci S'è stata a fort frolic Dici di no? No non ci siamo già stati Ah vabbè allora Dovevo andare qua Prova a puntare 10 dollari Vediamo se si vince qualcosa Ecco che gioca alle macchinette Ora gioca pure d'azzardo Ho vinto 25 Ecco vai vai Basta no non gioco più Era solo per fare Ragazzi noi ci fermiamo qua Perché ovviamente abbiamo fatto Abbiamo finito l'arcadia Spero vi siate divertiti Se volete gli altri episodi Trovate sempre in playlist Lo sapete Anche delle nostre altre serie Vi invitiamo a guardare la serie Rotten Games Che è la serie Secondo noi migliore Del nostro repertorio al momento Comunque iscrivetevi A tutti i social Che trovate in descrizione Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Spero vi siate divertiti Per oggi è tutto Ciao a tutti And I'm like Wait Hold up Please let me roll up And yo ho done chosen And now she got her nose up And these niggas don't know us But these hoes they know us May back when we read Grazie a tutti.